Ciao a tutti, sono Luna dal sito www.vidlab.it, benvenuti alla seconda lezione di archeologia e storia dell'arte romana. La scorza lezione abbiamo parlato del periodo della monarchia a Roma e dei Tarquini. Lasciamoci per il momento alle spalle questo periodo e andiamo avanti nella storia, andando a vedere cosa succede nel periodo repubblicano. Secondo la tradizione, Sesto, il figlio di Tarquini il Superbo, stuprò Lucrezia, la moglie di un lucio Tarquinio Collatino. La donna si uccise per la vergogna e questo provocò la reazione di alcuni nobili, che insorsero a capo di Giugno Bruto e costrinsero alla fuga i figli del re, e impedirono al Superbo, che era con l'esercita tarda, di entrare a Roma. Il Superbo cercò l'aiuto del re di Chiusi, Porzenna, ma sarebbe stato respinto per il valore di alcuni personaggi diventati famosi, come Orazio Coclite e Muccio Scevola. Alla fine il Superbo andò in esilio a Cuma e lì morì. Tutti questi avvenimenti avrebbero avuto luogo fra il 509 e il 504. Contemporaneamente si registra nella storia il generale declino della potenza etrusca nell'Italia centro-meridionale. La repubblica, istituita proprio nel 509, prevedeva che il potere, non più nelle mani del re, fosse spartito fra due consoli, con pari diritto. I consoli avevano il potere dell'imperium, ovvero il potere militare, il che gli permetteva fra le altre cose di decidere della vita o della morte di altre persone. Essi restavano in carica per un anno, dopodiché venivano rifatte le elezioni. Secondo la tradizione, i primi due consoli furono Lucio Junior Bruto e Lucio Tarquinio Collatino. In politica interna la repubblica si configurò come un regime aristocratico e il potere era detenuto dalle famiglie patrizie, cioè le famiglie più ricche, che vantavano nobili origini. Proprio tra i patrizi venivano scelti ogni anno i due consoli. L'altra fascia della popolazione, cioè quella più umile, era costituita dai playbay, che erano esclusi dal potere. Stanchi di non avere garanzie e di essere trattati iniquamente, i playbay organizzarono una secessione. Si ritirarono sull'Aventino, nel 494 a.C., e crearono i loro magistrati, cioè i tribuni della plebe, che si contrapponevano ai consoli. Nel 493 essi costruirono sull'Aventino il Tempio di Cerere, Libero e Libera, la triade da contrapporre a quella capitolina dei patrizi, cioè quella di cui abbiamo parlato nella scorsa lezione, Giove, Giunone e Minerva. Cerere è la Demetra dei Greci, dea della terra e quindi protettrice dell'agricoltura e di tutti i frutti della terra. Anche Libero e Libera sono divinità preposta alla fertilità dei campi e alla coltivazione della vite, e sono divinità italiche. Anche se è da notare che il Libero è anche un epiteto con cui veniva chiamato Bacco, il dio del vino, e che Libera viene talvolta identificata con Core Persefone, la figlia di Demetra. Tornando alla storia, la secessione dei Play Bay risultava essere un rischio per Roma, perché privava la città di gran parte della sua forza militare. I conflitti tra patrizi e Play Bay durarono a lungo, e i rischi di secessione furono molti tra il 494 e il 287 a.C. Nel contesto di questa lotta si colloca la pubblicazione nel 450 a.C. delle 12 tavole, le prime leggi scritte di Roma. La richiesta di questa pubblicazione partì addirittura nel 462 da un tribuno della plebe, tale Terentilio, per togliere ai patrizi l'arbitrio di interpretazione delle norme del diritto. In seguito, una conquista importante per i Play Bay furono le leggi Licini e Sestie, nel 367 a.C., fatte dai tribuni Gaio Licinio e Lucio Sestio, che consentirono anche ai Play Bay l'elezione al Consolato. In politica estera, invece, la Repubblica dovette affrontare diverse guerre. Prima quella con le città del Lazio, che si erano unite nella Lega Latina, conclusasi nel 496 con la vittoria romana sul lago Regillo, presso Frascati. In seguito i romani e i latini fronteggiarono insieme i sabbini, poi gli equi e poi i volsci. Tra queste guerre, con i popoli vicini, una importante conquista fu quella della città etrusca di Veio, nel 396, che fu distrutta da Marco Furio Camillo. Nel 390 Roma subì un durissimo colpo, digerito a fatica dagli orgogliosi romani, che ricamarono graziose leggende sull'accaduto, per minimizzare la sconfitta. Anche se gli archeologi ritengono che gli effetti di questo incendio gallico siano stati probabilmente esagerati dalla tradizione antica, poiché c'è una mancanza pressoché totale di indizi archeologici relativi all'evento. I galli, popolazione di Sirpe Celtica proveniente dalla Germania Meridionale, penetrarono in Etruria sotto il comando di Brenno e arrivarono a Chiusi, dove reclamarono terre. I chiusini chiesero aiuto ai romani, che inviarono un'ambasceria, la quale però si fece coinvolgere nella contesa. I galli cominciarono a marciare verso Roma e incontrarono l'esercito dei romani presso l'Allia, un affluente del Tevere, a 16 km da Roma lungo la via Salaria, sconfiggendo dolorosamente i romani una prima volta. Di fronte a tale sconfitta e alla ferocia dei galli, i romani pensarono di non poter difendere la propria città, così decisero di asserregliarsi sul Campidoglio, mentre donne e bambini furono spediti nei centri vicini. All'arrivo a Roma i galli la trovarono deserta, così la saccheggiarono e la dietro alle fiamme, e per mesi assediarono la Rocca, che fu difesa con coraggio da Marco Maglio, che fu così soprannominato Capitolino. I galli se ne andarono solo dopo il pagamento di un riscatto in oro, e non per l'eroica riscossa di Marco Furio Camillo, come più tardi si raccontò. Infatti, come detto prima, nacquero delle leggende, a cominciare dall'episodio delle oche che stavano sul Campidoglio, e cominciarono a starnazzare per avvertire i romani che un gruppo di galli stava salendo sulla Rocca. La spiegazione razionale è che l'oca era un animale sacro a Giunone, e siccome la dea aveva da poco aiutato i romani a vincere su Veio, ovviamente continuava nel loro immaginario a supportarli, attraverso la voce degli animali che le erano sacri. Poi nacque l'episodio leggendario di Marco Furio Camillo. Brenno gettò la propria spada sul piatto della bilancia mentre si stava pesando l'oro del riscatto, e siccome i romani protestarono per l'irregolarità dei pesi, egli pronunciò la famosa frase «guai ai vinti» e così Furio Camillo intervenne all'ultimo momento riportando una vittoria riparatrice, che naturalmente è del tutto inventata. Roma dovette affrontare anche i Sanniti, una popolazione stanziata nelle regioni appenniniche centro-meridionali, che si espansi in Campania contendendosi quei territori con Roma. Nella prima guerra sannitica i romani vinsero alleandosi con i campani e poi accordarono la cittadinanza romana agli abitanti di Capua. A questa guerra seguì un nuovo conflitto con la Lega Latina, che però venne sciolta nel 338 dopo la vittoria romana. La seconda guerra sannitica fu molto dura per una sconfitta umiliante dei romani, cioè la sconfitta delle Forche Caudine, nel 321. L'esercito romano, marciando in direzione di Benevento, fu fermato dai sanniti in una stretta gola boscosa, vicino a Caudio, che gli tesero una trappola. I romani infatti poterono andarsene solo dopo essere passati e disarmati sotto un gioco fatto di tre lance, da quel nome Forche Caudine, mentre i sanniti gli lanciavano insulti e scherni. Nonostante questo, i romani vinsero anche la seconda guerra e consolidarono i possedimenti in Campania, collegata a Roma attraverso la via Appia, costruita proprio in questo periodo da Appio Claudio, poi definito cieco perché perse la vista in tardetà, e acquisirono anche ulteriori territori in Etruria e Umbria. La terza guerra sannitica fu quella decisiva. I romani sconfissero definitivamente i sanniti e conquistarono l'intera Italia centrale. Torniamo finalmente al nostro Campidoglio. La scorsa volta abbiamo visto il Tempio di Giove Capitolino, o di Giove Ottimo Massimo. Davanti a questo Tempio c'era tutto uno spiazzale, che è questo qui, detto Area Capitolina, che era pieno di edifici e di statue, tant'è vero che si dovette procedere con lo sgombero dell'aria più volte. Questo piazzale non è più molto distinguibile, a causa delle continue frane che subiva il Campidoglio. Uno dei templi che era in questa zona era il Tempio di Ops, questo qui. In prossimità del quale, abbiamo detto la scorsa volta, c'era l'erario militare. Ops sta per abbondanza, cioè è l'idea dell'abbondanza del raccolto, protettrice del grano e dell'agricoltura, finì poi con l'essere identificata con Cibele. www.